vicino a voi e qui avviate un dialogo? Guardi, ho visto gli applausi a Fico, che sono stati applausi al Presidente della Camera. Noi, a differenza di altri partiti, rispettiamo le istituzioni, quindi siamo non solo ospitali, ma anche ben educati nei confronti di chi rappresenta la Camera dei Deputati. Le posizioni di Fico sono molto isolate dentro il Movimento 5 Stelle. Mi pare che lo abbiano rimasto solo, come disse una volta, se non sbaglio, Gasman. Allora faccio un appello non troppo scherzoso a Fico, visto che le sue posizioni sono assolutamente isolate. si iscriva al Partito Democratico. Quello che ha detto ieri alla festa dell'unità, in alcune parti, corrisponde a quello che pensa il PD. Siccome Fico è solo, si iscriva al PD, perché mi pare che nel Movimento 5 Stelle le sue posizioni non continuano nulla.